Ciao Ariete, bentornato. Oggi è giovedì, 4 ottobre 2024, e ho delle previsioni speciali solo per te. Sei pronto a scoprire cosa ti riservano le stelle? Oroscopo Ariete. 2 contro 1. 2 contro 1, lotta in pari dunque, ecco la situazione planetaria che vi attende quest'oggi, con la luna bilancina all'opposizione, ostile oltretutto al vostro astro guida Marte, che dà il segno del cancro anziché sostenervi vi dichiara guerra aperta. Esattamente come sta accadendo nel mondo, però, c'è chi il conflitto lo evoca, lo caldeggia, lo promuove e chi invece tenta di buttare acqua sul fuoco per spegnerne o almeno sedarne i bollori. Il compito se lo assume Giove pacifista, nel segno amico dei gemelli, eloquente diplomatico, un vero equilibrista della parola. Ottime probabilità di successo in corso a un esame o a una trattativa, più complicato invece riportare la pace in famiglia dopo una discussione che ha incendiato gli animi, se non siete in collisione anche con lui lasciate fare al partner, più pacifico e rassicurante di quanto non lo siate voi, anime ardenti, sempre pronte a prendere fuoco. Regali e doni inattesi, regali di valori e molto graditi. Aiuti economici, eredità, prestiti, entrete finanziarie. Per l'amore sarà un periodo di ripensamento e di riflessione molto produttivo, la maturità prenderà il sopravvento e si baderà più alle cose concrete. I single avranno mille piccoli vantaggi e un miglioramento della loro posizione economica. Spese insolite e impreviste. Dedicati alla cura del tuo corpo. Incontri nuovi e vivaci. Piacevolissime situazioni e incontri previste, solo cerca di dedicare il tempo necessario alla cura della tua persona. Ti stai trascurando. Rinviate ancora per un po' un acquisto che avevate in mente, oggi bisogna essere particolarmente attenti al portafogli e risparmiare vi potrebbe fare sicuramente del bene. Farai delle conoscenze simpatiche e utili. Evita le corse con l'auto o la moto. Potrasti pensare di fare qualche piccolissimo investimento. Buone notizie in arrivo per i nati di lunedì e sabato. È il momento meno opportuno per chiedere piacere ad amici e parenti, attendete un momento più propizio e non lasciatevi condizionare dalla fretta. Inciamperete in qualche delusione di troppo. Ma si tratta solo di un periodo di passaggio. Inutile nascondervi che avete tutte le possibilità per conquistare la persona che vi interessa e che vi fa battere il cuore. Curate dunque di farlo nel miglior modo possibile restando solo e soltanto voi stessi. I separati da poco tempo prestino particolare attenzione agli accordi che andranno a concordare con il proprio ex, qualche trappola potrebbe essere nascoste tra le pieghe dell'accordo. Meglio essere prudenti. Potreste sentirvi a disagio ed imbarazzati di forma delle situazioni che si verranno a creare tra colleghi o amici. Abbiate cura di avere un atteggiamento più sobrio e più circostanziato. Un eccellente giove in gemelli vi regala un tono vitale smagliante e una forma fisica di tutto rispetto. Ottimi risultati nelle discipline sportive e anche in chi semplicemente si cimenti in attività amatoriali. Se siete nati nella terza decade potrete contare su un momento di grande vigore psicofisico. Due malus e un bonus che però vale per due, risultato situazione alla pari, ecco quel che racconta la luna bilancina opposta al vostro segno in quadratura al vostro astro guida Marte battagliero in cancro. Coppia e famiglia dunque sottosopra, ma a salvare capra e cavoli ecco arrivare in corner la simpatia, la disponibilità e il pacifismo di giove in gemelli, segno buon amico del vostro capace di portare in luce la vostra parte migliore. Se in casa vi sentite in gabbia e col partner siete ai ferri corti, in giro per studio, per lavoro o semplicemente a spasso tornate allegri e vitali come fringuelli. L'ambiente consono e la buona compagnia fanno miracoli. Amore ed eros. In coppia quello che mette sul tavolo i problemi e si adopera per risolverli non siete voi ma il partner. Tante questioni da adirimere, spese di casa, andamento familiare, educazione dei figli su cui sembrate avere intendimenti opposti, lui o lei morbido e permissivo, voi più rigorosi e all'occorrenza punitivi. Forte la tentazione, quando l'atmosfera si fa elettrica, di accapigliarsi per sciocchezze, per esempio a chi tocca oggi rigovernare. Assurde le rimostranze sulla quantità di sale messa nell'acqua per la pasta, roba da ragazzini eppure stasera il casus belli brilla per puerilità. Gestite i rapporti con razionalità ed equilibrio, dosando gli slanci di magnanimità tipici del vostro segno senza eccedere. Decollano eventualmente i matrimoni e i progetti di grande respiro, pensati e guidati insieme alla vostra dolce metà. I single nati tra il 23 e il 29 di marzo sono gratificati da un effervescente spirito che rende smagliante la personalità e ne aumenta il personale sex appeal, proiettando verso un territorio di sicura conquista. E la giornata mostra per voi a rieti un sereno capirsi con la persona amata. Chi è nato nella seconda decade e si trova in coppia a Saturno amico dai pesci, che gli dona una volontà di programmazione invidiabile. Lavoro e denaro. Facili contatti, studi, affari, riuscite a impattare con garbo accattivandovi l'interlocutore. Vita difficile e improprio, peggio per chi è alle prese con faccende domestiche che sembrano non finire mai. Occhio a non farvi male pulendo le piastrelle della doccia o stirando camice. Per smaltire qualcosa di indigesto, sia in senso culinario che emotivo, nulla di più valido dello sport, magari una lunga camminata con un amico, chiacchierando del più e del meno, oppure uno spettacolo che, com'era già nell'intento degli antichi, smuove le emozioni provocando il riso o il pianto. Benessere. Il mal di stomaco è di natura nervosa, lo stesso vale per l'emicrania, qualcosa dentro vi rode e anche se fuori apparite sereni e sorridenti la realtà interiore è ben diversa. Voi decidetevi a sputarlo quel rospetto, prescrizione medica, risparmierete il costo delle pillole in farmacia e potrete finalmente assaggiare di tutto. Per lei, col vostro lui andate perfettamente d'accordo, ma con sua madre è un vero inferno, gelose vi contendete il pomerino come i cuccioli fanno con l'osso. Sarà a lui un bel giorno a declinare al maschile il famoso slogan femminista Io sono mia. Per lui, cuochi d'eccezione, ma non quando vi sentite osservati da qualcuno che non perdi occasione per metterci becco. Un po' più di sale, fuoco più basso. Non scherziamo, lo chef siete voi. Colore delle emozioni, barbabietola. Barometro dell'umore, piovoso. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6, attività, 5, finanze, 7, benessere, 5. Grazie per aver guardato il video. Buona giornata.